Non potrebbe esserci una sosta migliore per il Catanzaro, che si trova saldamente nella parte alta della Serie B. Dopo due vittorie consecutive in trasferta, pronostici rovesciati e una classifica che alimenta i sogni, la squadra giallorossa ha ottenuto una preziosa vittoria per 1-0 contro il Sud Tirol, portandosi al terzo posto con 18 punti, una media di due punti a partita e condivide la stessa posizione con il Venezia. Non è stato affatto semplice portare a casa la vittoria in Alto Adige, ma il successo è stato conquistato con pieno merito, sfruttando le solite armi, un solido possesso palla, verticalizzazioni efficaci, applicazione tattica e naturalmente le qualità individuali dei giocatori. Il protagonista principale è stato Pietro Iemmello, che ha interrotto il periodo di digiuno di oltre un mese, segnando il suo 41esimo gol in maglia giallorossa, con un magnifico tiro da fuori area. Anche se finora ha segnato solo due reti, un bottino modesto per uno come lui, abituato a numeri più elevati anche in Serie B. Le sue prestazioni a Genova e Bolzano sono state fondamentali, eleggendolo a vero leader di questo Catanzaro. Il Catanzaro, dopo aver raggiunto la sua vittoria numero 300 in Serie B a Marassi, ha aggiunto un altro capitolo alla sua storia. Mai prima d'ora aveva iniziato una stagione di Serie B, con una striscia di imbattibilità eterna di cinque partite non proprio facili. In termini di prestazioni in trasferta, solo il Palermo sta facendo meglio. La squadra di Corini ha raccolto ben 13 punti su 15 possibili, mentre quella di Vivarini ha ottenuto 11 punti in cinque partite, segnando lo stesso numero di gol dei rosa-nero, ovvero nove. Coloro che sostengono che la squadra di Vivarini sia la sorpresa della stagione hanno tutte le ragioni, rafforzate dai risultati che si accumulano e da un gioco affascinante ed efficace. La posizione in classifica e la qualità di gioco non sembrano dipendere dalla location del match, sia che si giochi in casa sia in trasferta.